ciao ragazzi eccoci di nuovo insieme per la configurazione di all day manager 3 e stalle bet che fa parte del circuito ipoker andiamo a configurare il client di ipoker una volta scaricato lo troverete in lingua italiano scorriamo subito le varie sezioni partendo dal time bank di default ce l'avete attivato automaticamente solo quando abbiamo le chips nel piatto dovete assolutamente metterlo in attiva sempre automaticamente quindi spuntiamo il secondo e la seconda opzione in tornei non c'è nulla da settare diciamo questa è l'opzione per aprile domenica intera lobby del torneo in audio probabilmente alcune volte potreste trovare l'audio disabilitatelo attivatelo sicuramente di default è molto basso mettetelo al massimo che non dà fastidio e ci aiuta a tenere l'attenzione sui tavoli inoltre spuntate oltre le prime tre caselle la quarta casella la flaggate per avere un suono di avviso quando è attivo il nostro è il nostro turno al tavolo nella sezione multi table c'è da spuntare sicuramente la sezione ricorda la posizione al tavolo in modo che se aprite un tavolo il software vi ricorderà quella esatta posizione per il resto priorità automatica lasciate così in chat spuntate tutto in modo da avere anche le configurazioni in futuro idonee ai poker tools faremo diciamo una configurazione del client anche idonea per sia per hm3 ma anche per ai poker tools che gestisce le size e il layout di questo ci occuperemo in un futuro video per quanto riguarda il tavolo andiamo a configurare sicuramente la funzione auto mock quindi di coprire le carte quando perdiamo o vinciamo la flagghiamo poi l'auto rebuy si clicca qui si attiva la parte sinistra non quella destra che è del fixed limit si mette massimo al tavolo nella sezione definisci lo stack di default e si mette il terzo pallino nella sezione definisci quando fare l'auto rebuy sarebbe e noi mettiamo o meno del cento per cento in questo modo avremo sempre 100 b blind facciamo ok configura i pulsanti di puntata anche qui potete configurarlo in maniera diversa potete mettere magari un terzo al flop half turn è una percentuale più alta river a seconda di cosa diciamo vi trovate meglio e poi le aperture da bottoni queste sono le varie percentuali che potete avere il bottone 1 2 3 io ho messo 2 e mezzo 3 e 4 le altre opzioni potete lasciarle così come ho messo io e sicuramente spuntate le caselle relative alla visualizzazione delle icone dispositivo mobile è utile per capire chi sta giocando da mobile animazioni toglietele perché il client già è pesante così sarà più pulito il tavolo e lo alleggeriremo il lavoro del processore sia del computer insomma per quanto riguarda il tema questa è un'impostazione che potete gestire come più vi piace io l'ho impostata compatibile con i poker tools i poker tools vuole che venga attivato il mazzo 4 colori questo dorso di mazzo o questo dorso di mazzo il mazzo deve essere grinders e il tema del tavolo default non il semplificato vuole il default l'avatar io ho tolto la spunta infine in generale ho messo nascondisaldo e la cosa che farò per renderlo ancora più compatibile con old manager 3 e altri programmi metterò la lingua in inglese una volta che abbiamo configurato tutto adesso il client è ok andiamo a vedere invece old manager 3 allora old manager 3 questa è una trial è una installazione pulita la prima installazione quando andrete appunto a scaricare l'eseguibile dal sito intanto vi consiglio di utilizzare i nostri codici sconti attraverso il sito www.grinderlab.it sezione software avete un 25% di sconto nell'acquisto di old manager 3 e di poker trigger 4 e altri software ancora una volta che avete scaricato il software e installato vi consiglio di fare manualmente l'import delle mani cioè quando lui vi chiederà di settare tutte le vostre poker room non le settate non gli date il percorso fate manuale deselezionate tutte le poker room in modo che al primo avvio avrete un old manager pulito e non si intaserà diciamo non avrà problemi se dovesse trovare un'enorme quantità di mani che spesso accade a chi gioca molto e usa diversi programmi potrebbe diciamo intasarsi nel importare ad esempio le mani di stars di peoples di starley bet di ai poker eccetera quindi fate come ho fatto io e una volta che vi parte il programma sarà così e andando in impostazione del sito avrete quello che vi ho detto io ovvero poker stars non è saltato nulla ai poker nulla 888 nulla queste sono quelle che lui ha rilevato nel mio computer potete aggiungere le altre poker room semplicemente andando in aggiungi più siti ad esempio peoples poker facciamo ok strumenti impostazioni del sito aggiungi più siti quindi si clicca siti attivi bisogna selezionarlo e poi aggiorna aggiorna siti vedete che ce l'ha messo qui sulla sinistra stessa cosa se volete ad esempio aggiungere l'automatica questa è l'automatica il boss network eccetera eccetera quindi non abbiamo dato i percorsi così abbiamo il programma bello tranquillo pulito non ci sono diciamo intasamenti al primo avvio poi ogni volta che vorrete andrete manualmente a dargli il percorso della room che vorrete importare andiamo a configurare ora il cliente di install e bet è molto semplice si va intanto old manager 3 è il primo software di tracker che è tutto in italiano quindi è ancora più facile per chi magari non masticava l'inglese si va in strumenti impostazioni del sito si va sul circuito ai poker e si va a configurare le cartelle di auto importazione si clicca su aggiungi qui si va a dare il vero e proprio percorso della di ai poker quindi di install e bet tutte le room di ai poker sono dentro c slash poker in questo caso cliccando qui andremo a dare il disco locale c quindi andiamo iniziamo proprio come se fosse la prima volta disco locale c andiamo in poker stalle bet poker data qui troverete la vostra username in questo caso c'è questa e infine diamo history qui diamo l'ok seleziona cartella e questo è il percorso definitivo per le mani qui potete lasciare il sito del poker conserva l'ecologia delle mani così lasciamo tutto così e diamo l'ok si riavvierà l'ad torniamo in impostazioni del sito una volta che avrà finito di riavviare l'ad come vedete qui c'è l'ok è configurato il mio post lasciate l'autocentro dovete selezionare autocentro configurazioni opzionali va bene così ora il programma è già settato andiamo un attimo a configurare ora le statistiche per settarle una volta per tutte definitivi al posto loro vi ricordo che olden manager 3 è una sorta di pt4 cioè ha molto in comune nel software con poker trigger 4 ad esempio la costruzione dell'ad se andiamo a vedere il nostro ad come si costruisce personalizzazione dell'ad vi renderete conto che praticamente è uguale a pt4 eccolo qui quindi chi viene da pt4 si troverà molto meglio vedete c'è la possibilità di costruire l'ad in maniera identica andiamo a fare una prova e vedere se è configurato perfettamente il client con l'ad andiamo in poker cache anche qui vi consiglio questa visualizzazione non la visualizzazione di default ma questa visualizzazione che è molto più comoda usando i filtri potrete ad esempio mettere micro e andiamo a giocarci un tavolo da 6 max li possiamo anche configurare qui dal più piccolo al più grande ecco qui c'è un tavolo pronto come vedete io sto usando sto usando i poker tools mi hanno preso il tavolo proviamo un altro tavolo questo è un layout di i poker tools poi vi spiegheremo come settarlo come vedete cosa c'è di diverso sicuramente il layout è più pulito le carte sono diverse e lo stacking bb queste sono le cose principali in più ho inserito le varie posizioni una volta che noi andremo a giocare le prime mani saprò sempre anche e soprattutto per chi multitabla in che posizione è avvenuta l'action quindi chi è di bottone eccetera eccetera faremo un video dedicato ai poker tools quindi non vi preoccupate in ogni caso voi vedete il tavolo nella maniera di default quindi vi faccio vedere come lo vedrete lo disabilito così è meglio andiamo a disabilitare i poker tools facciamo stop e chiudiamolo ecco qui il tavolo ci apparirà così ci andiamo a sedere 100 bui non aspetterò il buio per non farvi annoiare e giocheremo la prima mano e vi farò vedere come configurare le varie statistiche come per older manager 2 le statistiche si spostano con il tasto destro del mouse attendiamo che finisca la mano ok dovrebbe già partire il pannellino vabbè questa è la visualizzazione upgrade perché io ce l'ho in trial si sposta tutto con il tasto destro del mouse ed ecco le statistiche questo è il pannello diverso da older manager 2 come vedete è uguale a pt4 come spostare quindi la prima cosa che dovete fare è selezionare le statistiche al posto giusto mi sembra che già siano messe bene no questa ad esempio è messa ma no qui c'era un player che è andato via una cosa che vi consiglio come per older manager 2 di togliere l'add per voi come si toglie l'add si va in se non è cambiato si va in add opzioni dell'add andiamo a trovarcele ah qui è diverso esatto essendo uguale a pt4 non c'è più l'opzione nascondi l'add per hero che c'era in generic da add settings ma avremo l'opzione in add me l'hanno chiesto anche oggi questa cosa per poter nascondere il nostro add un attimo che finisco la mano ok si va in add personalizzazione dell'add andremo a noi stiamo usando l'add default e lo capiamo da qui cache default qui potete scegliere il vostro add personalizzato una volta che avete capito qual è il vostro add personalizzato andrete a mettere tutti tranne hero qui in questa maniera nascondiamo l'add per older manager 3 per hero è una domanda che mi avete fatto proprio oggi diamo l'ok e come vedete non c'è più l'add di hero questa è una cosa importante un'altra cosa che va detta è che appunto siccome chi viene da older manager 2 non si troverà con il pannellino qui cosa c'è di diverso intanto c'è blocca layout significa che le statistiche non si possono più spostare vedete non posso far più nulla si bloccandolo si possono di nuovo spostare poi c'è salva layout salva layout serve per fissare definitivamente le statistiche se io la metto qua e faccio salva layout la statistica rimane qua ora le setto così manca la statistica di questo player aspettiamo che giochi una mano e poi faremo save layout e poi blocca layout cosa altro si può fare qui? si possono vedere le statistiche della singola sessione e si può impostare una dimensione del tavolo diversa io non la uso a questa opzione invece nell'altra parte del pannellino si può vedere la cronologia delle mani in questa maniera per fare review, marcarle questo è un modo per marcare for review oppure per blef, bad bit, eccetera eccetera quindi si marca qui e si imposta qui come vogliamo rivederla alla mano chiudiamo altra cosa che si può fare è rivedere la mano in tempo reale ad esempio mostro ultima mano vedremo la mano appunto che si è svolta con il replayer istantaneo le ultime mani sono molto comode da vedere vedete clicchiamo qui vedi cronologia delle mani e le possiamo anche copiare facendo così questo cambia la visualizzazione del replayer per copiare la mano vedi copia ecco c'è l'opzione copia mano negli appunti nel formato e potete poi postarla ad esempio in Grinders vi consigliamo di usare un converter copiate il testo e poi andate in un converter e poi postate la mano sulla nostra community una volta che avete posizionato le statistiche al posto giusto dovete dare semplicemente l'ok facendo salva layout e poi bloccandolo in questa maniera abbiamo settato il client con all the manager 3 vi faccio vedere che aprendo un altro tavolo le statistiche saranno posizionate identiche al tavolo numero 1 facciamo una prova velocemente per vedere la sessione qui dovete poi abituarvi al nuovo layout di all the manager 3 andando in resoconti possiamo andare ad esempio in report recenti oppure in sessioni qui e vedere il nostro andazzo qui potete anche cambiare togliere in dollari mettere le varie statistiche mettere il net 1 in euro la rakeback la rake eccetera un po' come succedeva per all the manager 2 come vedete è tutto ok e le statistiche adesso sono bloccate questo è utile perché comunque potete mentre giocate potete spostarle potete fare poi come volete aspettiamo che abbiamo completato e confermato che le statistiche sono posizionate possiamo salutarci per qualsiasi domanda potete scriverci potete scrivere all'indirizzo skype.info.grinderlab in assistenza insomma quando è possibile vi daremo sempre una mano e invece in Grinders vi consigliamo di postare più le mani a una community che ha uno scopo ben preciso che è quello di appunto migliorare il gioco delle persone quindi per problematiche tecniche vi consiglio più di scrivere in privato all'assistenza di Grindelab ecco qui come vedete sono perfettamente posizionate come il tavolo 1 possiamo chiudere il client e ricordarvi anche se ve l'ho già detto che il nuovo software del manager 3 lo trovate in sconto tramite i nostri link sul nostro sito web avete il 25% di sconto ragazzi ci vediamo al prossimo video spero che sia tutto chiaro arrivederci grazie a tutti grazie a tutti